Mafia, colpo ai clan di Porta Nuova e Bagheria, sette arresti, coinvolto anche un consigliere di Santa Flavia. Presentato già a Palermo il libro dossier La gestione dei rifiuti urbani in Sicilia di Lega Ambiente. E Claudio Caviglia, il nuovo assessore all'urbanistica del comune di Bagheria. Buonasera e bentrovati all'edizione di Media News di giovedì 12 maggio. Mafia, colpo ai clan di Porta Nuova e Bagheria, sette arresti, coinvolto anche un consigliere di Santa Flavia. Vediamo. I carabinieri del comando provinciale di Palermo stanno eseguendo sette provvedimenti restrittivi emessi dal GIP su richiesta della locale procura distrettuale antimafia, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di associazione mafiosa ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'attività scaturisce dall'operazione Pantarei del 16 dicembre 2015, che ha consentito di azzerare la capacità operativa dei mandamenti di Porta Nuova e di Bagheria, traendo in arresto 38 tracapi e gregari. Dalle investigazioni è emerso che l'attività estorsiva, oltre ad essere strumento attraverso il quale Cosa Nostra esercita il controllo sul territorio, continua ad essere una forma di sostentamento primario per il sodalizio mafioso. Sono state documentate sette vicende estorsive in danno di commercianti e imprenditori costretti al versamento di significative somme di denaro, con cadenza mensile o in occasione delle festività di Pasqua e di Natale. La maggior parte delle attività commerciali messe a posto sono ubicate a Borgo Vecchio, storico quartiere palermitano ed è in clave mafiosa, dove gli operatori economici hanno deciso di infrangere il muro dell'omertà e di fornire ampia collaborazione agli inquirenti. È stato anche accertato il coinvolgimento in una vicenda estorsiva di un consigliere di minoranza del comune di Santa Flavia, che in concorso con un autorevole esponente di Cosa Nostra bagherese avrebbe costretto un imprenditore a consegnare la somma di 20.000 euro a titolo di mediazione e di messa a posto per la compravendita di un terreno dove la vittima avrebbe dovuto costruire degli immobili. In arresto sono finiti Antonino Abate, Gaspare Parisi, Vincenzo Vullo, Giuseppe Minardi, Salvatore Ingrassia, Bartolomeo Militello e Salvatore Martorano. Il 27 maggio manifestazione nazionale di Almaviva a Roma. Una delegazione di RSU e lavoratori è stata ricevuta ieri in prefettura. Si terrà il 27 maggio a Roma la manifestazione che la CGL Palermo e l'SLC CGL Palermo avevano sollecitato in questi giorni con il coinvolgimento di tutte le sedi Almaviva d'Italia. La data è stata comunicata dalle segreterie nazionali dei sindacati del settore telecomunicazioni. Mancano 23 giorni alla scadenza del procedimento di avvio dei licenziamenti. Resta poco tempo e la tensione sta salendo, come dimostrano i blocchi stradali durante le manifestazioni di questi ultimi giorni. E i sindacati, che il 27 scenderanno in piazza, chiedono un tavolo ministeriale che coinvolga entrambi di Casteri, il Ministero del Lavoro e il Ministero dello Sviluppo Economico, per trovare una soluzione possibile all'avertenza. Ieri una delegazione di rappresentanti sindacali e di lavoratori è stata ricevuta in prefettura. Le RSU hanno ribadito che la soluzione appare ancora lontana ed hanno spiegato le motivazioni del no dei lavoratori Almaviva alla proposta aziendale, rigettata perché priva di prospettiva e troppo penalizzante per i lavoratori di Palermo, che temono la cristallizzazione degli esuberi anche alla luce della recente riorganizzazione delle due sedi, con la chiusura di quella di via Marcellini e il trasferimento in quella di via Cordova. La Prefettura di Palermo, che ha ricevuto dai sindacati la richiesta della convocazione del tavolo ministeriale, solleciterà a sua volta il Governo centrale affinché la data del tavolo venga fissata in tempi brevi. È stato presentato oggi a Palermo il libro Dossier, la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia di Lega Ambiente. La pubblicazione si prefigge di fornire un quadro di conoscenze completo sulla gestione dei rifiuti urbani in Sicilia, dagli anni Ottanta a oggi, mediante dati, report ed analisi sui fattori produttivi ed economici, sugli atti programmatici e normativi, sul regime delle autorizzazioni e sul sistema dei controlli. Noi ribadiamo che siamo contro all'ennesima emergenza nella gestione dei rifiuti. C'è da fare poco in maniera semplice e chiara, copiando quello che è stato fatto da altre parti, non da regioni lontane dalla nostra, dalla nostra storia, dalla nostra travagliata gestione. La Campania, per esempio, è un modello, un modello che addirittura ha portato quella regione ad avere delle percentuali di raccolta differenziata oggi superiore a quelle della Toscana. Quindi c'è da fare cose molto semplici e non fare percorsi già visti. L'iniziativa che presentiamo oggi è una ricostruzione della memoria sul fallimento della gestione dei rifiuti nella nostra regione. Partendo da questa storia fatta da atti, da scelte non compiute, da scelte sbagliate, si può costruire finalmente un percorso virtuoso nella gestione dei rifiuti in Sicilia per risolvere in maniera radicale e definitiva questa annosa e vecchissima emergenza. Ho cercato di raccogliere i dati che erano reperibili in molti documenti, soprattutto quelli per esempio di Ispra, del catastro dei rifiuti. E anche utilizzando tutti i siti dell'amministrazione, utilizzando le gazzette per gli anni precedenti, ho cercato di ricostruire la storia dei rifiuti, o quantomeno quelli che sono a mio avviso gli eventi più rilevanti, a partire dagli inizi degli anni Ottanta per arrivare a oggi. L'intendimento era proprio quello di fornire un filo conduttore su quelli che erano stati di contribuire a fornire un filo conduttore su quella che era stata la storia e la criticità dei rifiuti. La Giunta Comunale di Palermo ha approvato la proposta di piano di classificazione acustica che sarà portato dal vaglio del Consiglio Comunale. Si tratta di un piano anti-rumore per la città che fissa i limiti dei decibel di giorno e di notte. Vediamo. La Giunta Comunale di Palermo ha approvato la proposta di piano di classificazione acustica che sarà portata ora al vaglio del Consiglio Comunale. Il piano suddivide la città in 2.829 microaree. Per ciascuna di tali classi il piano individua dei limiti di emissione, immissione e qualità acustica in decibel, distinti per il periodo diurno dalle 6 alle 22 e quello notturno dalle 22 alle 6. Si va dalle aree di classe 1, nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione come ospedali, scuole, aree di riposo e svago, zone rurali e di particolare interesse urbanistico e parchi pubblici, a quelle di classe 4, cioè esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. La classificazione è stata fatta tenendo conto di quattro elementi, traffico veicolare, presenza di attività commerciali e servizi, presenza di insediamenti e attività di tipo industriale e artigianale, densità della popolazione. Una prima zonizzazione viene fatta in modo automatico sulla base dei dati statistici ed una successiva, quella definitiva, sulla base di parametri aggiuntivi, quali ad esempio la volontà politica di tutelare alcune zone di maggior pregio storico o di inserire parametri che favoriscano la residenzialità. Questo perché a Palermo il livello di inquinamento acustico da traffico veicolare non è mai al di sotto dei 40-45 decibel, anche di notte e in tutta la città. La proposta è stata redatta dal Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento da agenti fisici di Perugia, in collaborazione con gli assessorati all'ambiente e all'innovazione del Comune. Una volta che il Consiglio Comunale avrà fatto proprio il piano, si procederà ad armonizzare il regolamento sulla Movida, approvato dallo stesso Consiglio a novembre dello scorso anno con le prescrizioni del piano. Un corso di formazione mirato alla creazione di un'impresa cooperativa specializzata nel catering è formata da giovani dei quartieri a rischio di Palermo. È il progetto Symposium ideato dall'Associazione Palermitana Volta la Carta in partenariato con la linea della Palma e Cairos. I particolari del progetto sono stati presentati oggi. Vediamo. La volontà di queste associazioni ha dato luogo al progetto, che in realtà prevede un percorso formativo per un gruppo di 15 ragazzi dai 18 ai 28 anni, che nell'ambito del progetto avranno la possibilità di costituirsi in cooperativa, associazione o comunque soggetto di impresa, e gestire autonomamente dei servizi di ristorazione. Tutto questo nell'ambito di un concetto di inclusione sociale che permette a ragazzi con disagio psichico di entrare nel mondo del lavoro al pari dei loro coetanei e rendersi autonomi dal nucleo familiare, facendo questo percorso da una parte formativo e dall'altro di inserimento nel mondo del lavoro. Tutto questo supportato da una parte dall'Istituto Alberghiero, perché i servizi di ristorazione in qualche modo sono il loro fiore all'occhiello, e quindi abbiamo il loro contributo tecnico, e dall'altra dal Comitato Addio Pizzo, che ci garantisce che questo nuovo soggetto imprenditoriale possa seguire un percorso di legalità ed inserirsi nel mercato nel migliore dei modi possibili. E' quello che per noi è fondamentale, quindi lavorare su tutti i ragazzi, al di là del disagio psichico, su un tipo di cultura, perché noi purtroppo a Palermo, in Sicilia, abbiamo la cultura dell'assistenzialismo, quindi del posto fisso. Noi dobbiamo lavorare su quello che ho definito il metodo delle tre A, dall'assistenzialismo all'accompagnamento all'autonomia. Noi siamo alla parte dell'accompagnamento rispetto a questi soggetti che sono giovani, disoccupati e che sperano nel posto fisso, che ovviamente non possono ottenere. Quindi il nostro obiettivo è lavorare sull'aspetto culturale, e verranno sostenuti da questo punto di vista fin dalla selezione. L'associazione La Linea della Palma, nata nel 2004 e formata da giovani professionisti del territorio, si occupa da tanti anni di selezione e formazione. Per il progetto simposium sarà responsabile della selezione e della formazione del personale. Il bando per la partecipazione al progetto è attualmente online sul sito www.lalineadellapalma.it. Possono partecipare giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni, anche studenti diplomandi, quindi in uscite al termine del percorso scolastico. Il bando sarà online fino al 30 maggio. e la scheda di iscrizione si può scaricare direttamente dal sito. E Claudio Caviglia, 31 anni, il nuovo assessore all'urbanistica del comune di Bagheria, ingegnere civile ed ambientale. Il neoassessore si è occupato di progettazione di strutture alberghiere e ricettive ed ha anche ricoperto il ruolo di direttore dei lavori in diversi progetti di edilizia privata. Subentra a Luca Tripoli, che aveva rassegnato le dimissioni in seguito alle polemiche su alcune ville abusive. Fin da subito ci stiamo preparando per affrontare il problema annoso dell'abusivismo ed edilizio, percorrendo di nuovo anche il percorso che ha fatto il vecchio assessore Tripoli. Su questo, chiaramente, ancora a breve ci confronteremo, per continuare al meglio l'operato che è già svolto. Dopo di questo, visto che siamo agli sgoccioli anche con il PRG, si spera entro i prossimi mesi di avere un'approvazione giuridicamente inattaccabile. E poi lavorare molto sul territorio, sul decoro urbano, sul waterfront, quindi su Aspra, sull'area verdi, diciamo tutto quello che è di urbanisticamente, per rendere appunto il territorio, la nostra città, la mia città, migliore di quella che è stata. Bageria manca di molti servizi per la città, per il cittadino, per il turista, che appunto Bageria non vive molto di turismo, quindi su quello sicuramente l'amministrazione già ci sta lavorando parecchio, costantemente, ed è questo che continueremo a fare. Giunti nel 2016, chiaramente, ci troviamo con un territorio compromesso, con una porzione di territorio con abusi edilizi notevoli, per cui dobbiamo trovare le soluzioni oggi, senza recriminare il passato, riconoscendo che esiste un fenomeno che si chiama abusivismo edilizio e che una parte di esso è abusivismo edilizio di necessità, che anche io, una larga parte, diciamo, una larghissima parte, diciamo, rientra in questo fenomeno, che anche io come sindaco, che molti conoscono sicuramente la mia vicenda, conosco, e quindi questo, anzi, mi è utile al fine di capire bene quali possono essere le soluzioni. Si conclude a Villa Abate il progetto Gli Amministratori del Futuro. Vediamo. Sono molto contenta che ce l'ho fatta, anche perché è bellissima, e Villa Abate è un paese bellissimo, e quindi sono contenta di poterlo migliorare. In Villa Abate ci sono molte ricchezze, io vorrei riprovare a farlo, perché è stata un'esperienza bellissima e sono contenta di avercela fatta. Si, è stato molto bello, soprattutto quando ha parlato il sindaco, perché ha esposto molto, appunto, la manifestazione. E quindi vuoi ringraziare qualcuno in particolare? Si, i professori, il sindaco, il vice sindaco, tutti quelli che hanno realizzato il progetto. Oggi, dopo circa un mese di attesa, abbiamo conosciuto il baby sindaco, il baby consiglio comunale e la baby giunta. Devo dire che è stata un'esperienza abbastanza formativa per noi consulente ed è stato anche molto importante, perché siamo state supportate da Anna Maria Cilluffo, il vice sindaco del presidente del consiglio Giovanni Piterresi. Sono molto contenta di aver collaborato con questa iniziativa del vice sindaco Cilluffo e del presidente del consiglio Piterresi. Devo dire che è stato entusiasmante e che l'entusiasmo dei ragazzi ci ha davvero contagiato. Spero che questi ragazzi mantengano questo entusiasmo e lo conservino fino alla scadenza del loro mandato, ma anche in un futuro in cui spero che diventino amministratori. Bellissima manifestazione quest'oggi, conclusiva del progetto Gli Amministratori del Futuro, baby consiglio comunale. Adesso vi debbate a un baby sindaco che si chiama Stefano Costa e frequenta la classe seconda della scuola superiore di primo grado. Accanto a lui quattro assessori e venti consiglieri, scelti tra i ragazzi di scuola primaria, quarta e quinta e di scuola superiore di primo grado. Presentata presso la direzione del cantiere navale Fincantieri di Palermo, la mostra Saturnia e Vulcani a motonavi da record, aperta al pubblico da domani e fino al 5 giugno presso l'arsenale della Regia Marina. La mostra è un omaggio ai due leggendari transatlantici e dalle maestranze che hanno realizzato tale impresa. Nel corso dell'esposizione saranno organizzati una serie di importanti eventi e per la prima volta sarà possibile visitare il cantiere navale di Palermo. Abbiamo grandi aspettative su Palermo, sono due navi costruite a Muffalcone nel 26 e nel 27 che hanno solcato i mari per oltre quattro decenni, 40 anni. Il vulcania è stato demolito nel 72 per capirci e hanno portato molte persone da Palermo verso i viaggi della speranza nell'America. Abbiamo trovato parecchie testimonianze, foto e immagini delle navi su Palermo, queste navi che hanno, dicevo, importanti e che per la prima volta nella storia hanno inserito i motoristi all'interno e così via. Il rapporto non solo del cantiere di Palermo con Palermo ma generalmente di tutti i cantieri con la città è un rapporto che forse vive più i conflitti interni operai, società o scioperi che in qualche modo vengono evidenziati che il rapporto con la società vissuto come eccellenza. Il vulgo di far conoscere questo cantiere, questa realtà produttiva della città di Palermo che non sempre si accorta dell'esistenza di questa realtà importante sia storicamente che anche ai giorni d'oggi perché in pratica è una delle poche realtà produttive rimaste in questa città. Quindi accoglieremo la città, faremo vedere cosa stiamo realizzando, mostreremo cosa abbiamo realizzato nel passato prossimo e diremo anche cosa abbiamo in mente per il prossimo futuro. Questa meravigliosa struttura che ancora non è un museo ma che diventerà il museo del mare come è giusto che sia nel frattempo da quando è stata assegnata a noi due anni e mezzo fa abbiamo deciso ovviamente insieme al soprintendente del mare che dirige la struttura della soprintendenza del mare di fare delle attività che cominciassero sia a raccontare tutto quel mondo del mare dalle attività scientifiche agli incontri, alle scuole ma soprattutto a fare conoscere questo luogo che è stato chiuso per tantissimo tempo. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e come sempre appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.